mi sono svegliato questa mattina sentendomi come un chicken nuggets il chicken nuggets nel quale mi identifico è quello del mcdonald ovvero delizioso caldo finto e tossico all'interno perché se non lo sapete nascono da una cacca rosa e io mi sento così che sono nato da una cacca rosa e adesso sono un chicken nuggets stamattina mi sono svegliato triste e questo non ha niente a che fare con eventi che sono accaduti recentemente ma penso che io sono una persona triste nata triste che questa tristezza me la porterò per sempre nella vita infatti diciamo nessuna persona può migliorare o peggiorare questo mio sentimento come ho detto mi sono svegliato questa mattina sentendomi come un chicken nuggets il chicken nuggets al quale mi identifico scusate ho la gola secca come sarebbe quella di un chicken nuggets senza la soda e le salse come vi ho detto il chicken nuggets al quale mi identifico è quello del mcdonald ovvero caldo delizioso croccante tossico e finto all'interno perché come ho detto prima nascono da una cacca rosa e mi sento così che sono nato da una cacca rosa e adesso sono un chicken nuggets senza amici mi sento un chicken nuggets da solo al quale non è stato accompagnato neanche dalla coca cola o dalle salse mi sento solo e abbandonato a me stesso e molte persone ultimamente mi stanno criticando per quello che pubblico su twitter su youtube e su instagram solo che io ci tengo a dire che un chicken nuggets non sente la pressione mediatica non sente la pressione dei social media perché i chicken nuggets sono amati e benvoluti da tutti quindi spero che le persone non si arrabbiano per per quello che io posto anche perché adesso mi identifico come un chicken nuggets e se questa cosa non vi piace potete benissimo smettere di seguirmi non voglio essere identificata come pazza crazy o mentalmente instabile perché appunto adesso mi identifico come un chicken nuggets ovvero il chicken nuggets di mcdonald prima che qualcuno dica qualcosa i miei occhi stanno benissimo sono solo una persona triste nata sempre triste come ho detto sento l'amore che avete per me per i miei fratelli chicken nuggets tramite i social media e mi sento come se fossi in un pacco da 20 o da 15 in passato come ho detto penso di essere una persona triste però penso che ogni giorno è la vita di un chicken nuggets migliori quindi ogni giorno andrà sempre meglio spero che possiate rispettare la mia scelta nel senso adesso voglio essere identificato come un chicken nuggets perché piacciono a tutti sono caldi e nessuno mai gli dice di no come ho detto sono molto amati nei social e spero anche io un giorno di essere amato da qualcuno e niente ragazzi spero che voi possiate accettare questo nuovo lato di me se non rispettate la mia scelta come ho detto prima potete benissimo smettere di seguirmi solo che credo che sia difficile odiare un chicken nuggets come ho detto la mia tristezza non deriva da nessuno o da qualcuno penso di essere una persona nata triste ed è there's that nel senso questo è quello che ho da dirvi come ho detto spero spero veramente di trovarmi in un pacco da venti e di non restare mai solo e grazie per aver seguito questo video grazie per aver guardato il video